La pezzata di Capracotta ha ricevuto il premio di prodotto topico, il riconoscimento nel corso di una manifestazione tenutasi in Abruzzo alla quale hanno preso parte ben 50 comuni italiani. La pezzata di Capracotta è un prodotto topico. Il premio assegnato all'Intella in provincia di Chieti, patrocinato da Regioni Abruzzo e Camera di Commercio di Chieti, mira a valorizzare e promuovere i prodotti tipici, le attività economiche, la cultura e l'enogastronomia del territorio del Trigno Sinello. Ciascuno dei 50 comuni ricadenti in quell'area tra l'Abruzzo ed il Limitrofo Molise ha selezionato il proprio prodotto topico da Topos, luogo in greco antico, di cui il nome del premio. Un risultato che ci riempie di orgoglio, così candido Paione, sindaco di Capracotta. Non serve ripetere dell'importanza che la pezzata riveste per noi e per la nostra comunità, dice ancora Paione. Ad ulteriore conferma il dato eccezionale delle presenze registrate in occasione dell'ultima edizione a Prato Gentile tenutasi ad inizio agosto. Siamo molto felici ed orgogliosi di questo riconoscimento per il quale va ringraziato soprattutto l'impegno della Proloquo e dei volontari che svolgono un lavoro importante, non solo per l'organizzazione della pezzata. Con il finale della rassegna del prodotto topico è stata premiata un'intera comunità con la sua tradizione culinaria più antica e il forte legame territoriale di questo piatto, davvero unico nel suo genere e così pieno di storia, chiosa il primo cittadino. Dunque per la pezzata l'ulteriore riconoscimento in questa sorta di campionato gastronomico. L'affermazione potrà contribuire a far conoscere ed apprezzare il particolare piatto al di là dei confini regionali.